Stax Shepard, un altro dei membri storici di The Jedi Bard. Agantir è famoso perché durante una lita con un vampiro, con un certo tipo, le porte del mondo arcano noi abbiamo, le porte del mondo arcano noi abbiamo, che era un tipo, diciamo, le porte del mondo arcano noi abbiamo, era un problema.